Salve a tutti! Oggi voglio parlare di un generatore di onda triangolare fatto con un amplificatore operazionale che consiste in un semplice circuitino che consente di variare la frequenza di uscita dell'onda triangolare e di settare la sua ampiezza. Il circuito di cui sto parlando è quello che vedete riportato qui sul foglio e si compone semplicemente di questo amplificatore operazionale che produce un'onda quadra in uscita e di questo amplificatore operazionale che è messo in modalità di integratore che va ad integrare questa onda quadra. La differenza questa volta è che la soglia di scatto di questo amplificatore viene messa in riferimento non alla massa del circuito ma all'uscita di questo integratore. Quindi la tensione V+, ovvero la tensione presente su questo nodo, non sarà pari solo al primo termine come succedeva nel caso di generatore di onda quadra ma applicando il principio di sovrapposizione degli effetti vediamo che si va a sommare anche questo secondo termine dove quindi V out quadra si riferisce alla tensione su questo nodo mentre V out triangolare si riferisce alla tensione su questo nodo. Ed altra differenza col caso del generatore di onda quadra possiamo notare che questa volta la tensione V più non è costante ma è funzione del tempo in quanto la tensione V out triangolare non è costante ma essendo una triangolare varia il suo valore al passare del tempo. Ora essendo che il valore di V out quadra può assumere solo due valori ovvero il valore alto e il valore basso andiamo a riscrivere l'equazione V più di t nel caso in cui V out quadra sia uguale a V out quadra alta e nel caso in cui V out quadra sia uguale a V out quadra bassa. E una volta scritte queste due forme dell'equazione siamo in grado di andare a determinare quali sono le soglie di scatto del nostro circuito. In altre parole quindi l'ampiezza massima della nostra onda triangolare. E com'è che facciamo? Essendo che sappiamo che questo comparatore scatta quando V più passa per lo zero per calcolarci V out triangolare bassa andiamo a sostituire in questa equazione al valore di V più imponiamo zero e quindi andandola a risolvere resta che l'unica incognita è V out triangolare bassa che sarà pari a meno il rapporto di R2 su R1 per V out quadra alta. Allo stesso modo per calcolare il valore di V out triangolare alta andiamo a sostituire in questa equazione il valore di V più e lo imponiamo uguale a zero. Quindi otteniamo questa equazione qui in cui l'unica incognita è proprio V out triangolare alta che risulterà essere uguale al rapporto di meno R2 su R1 per V out quadra bassa. Riportando su un grafico l'andamento di V out quadra e V out triangolare in funzione del tempo otteniamo le seguenti forme d'onda. Ovvero questo è l'andamento dell'uscita dell'onda quadra dal primo amplificatore operazionale che varia fra un massimo di V out quadra alta e V out quadra bassa mentre questo è l'andamento dell'onda triangolare in uscita dal secondo amplificatore operazionale che varia da un massimo di V out triangolare alta a un minimo di V out triangolare bassa. E nel caso in cui utilizzassimo una tensione di alimentazione simmetrica quindi il valore assoluto del polo positivo uguale al valore assoluto del polo negativo otteniamo che il valore di V out triangolare alta è uguale al rapporto fra R2 ed R1 moltiplicato per la tensione positiva mentre il valore di V out triangolare bassa è sempre uguale al rapporto di R2 su R1 però questa volta moltiplicato per il valore di tensione negativa. Mentre per quanto riguarda la frequenza dell'onda triangolare questa sarà pari a questa formula qui. Ora ho evitato tutti i passaggi matematici che dimostrano come si arriva a questa equazione perché sono abbastanza complicati e quindi non volevo appesantire troppo il video. L'importante era capire il concetto di funzionamento del circuito. Ora per vedere come funziona in pratica andrò a costruirlo assegnando ai componenti i seguenti valori che dovrebbero garantire una ampiezza dell'onda triangolare di uscita pari a un mezzo della tensione di alimentazione e dovrebbero consentirmi di regolare la frequenza andando a modificare il valore della resistenza R fra una frequenza minima di 454 Hz e una frequenza massima di 5000 Hz. Ho montato il circuito sulla breadboard come amplificatore operazionale userò l'NE5532 e alimenterò il circuito con una 15 volt e poi attraverso la tecnica della massa virtuale mi vado a creare l'alimentazione duale. Qui si può vedere chiaramente il trimmer con cui effettuerò la variazione di frequenza ed ecco qui le forme d'onda che vediamo. Abbiamo in giallo l'uscita del primo amplificatore operazionale, quindi l'onda quadra, e mentre la forma d'onda azzurra è l'uscita del secondo amplificatore operazionale, infatti è facilmente riconosciuto, possibile l'onda triangolare. Come possiamo vedere l'ampiezza è esattamente alla metà dell'ampiezza dell'onda quadra, sia in negativo che in positivo, in questo momento mi trovo alla frequenza minima che è proprio pari a 500 Hz, quasi simile a quella che avevamo calcolato analiticamente che doveva essere di 450 Hz. Adesso provo a salire in frequenza. Ecco qui, vedete sto salendo ma l'ampiezza dell'onda triangolare è perfettamente costante, non cambia durante l'aumento della frequenza. Arrivo fino al massimo. Ecco qui, siamo alla frequenza massima che risulta essere pari a 4,69 kHz, molto vicina a quella che avevamo calcolato analiticamente che doveva essere di 5000 Hz. Inoltre, l'onda triangolare sembra anche molto pulita, quindi è una bella onda triangolare quella che abbiamo in uscita. Molto bene, come abbiamo potuto vedere quindi il circuito funziona perfettamente, inoltre la qualità dell'onda triangolare in uscita risulta essere davvero molto elevata. Poi ovviamente dipende dalle prestazioni dell'amplificatore operazionale che andiamo ad utilizzare. Per questo video quindi è tutto, alla prossima! Grazie! Grazie!